Ci incontriamo il giorno perfetto, che cosa significa far diventare il giorno del proprio matrimonio perfetto? Detto dalla titolare, nome? Lucia Lucia, diccelo Guarda, allora, il giorno perfetto, noi cerchiamo di accontentare gli sposi, seguiamo tutto quello che ci dicono loro, nel senso cerchiamo di esaudire il loro desiderio, il loro sogno Pescara in via Orazio 65 Raggiungerete il vostro giorno Perfetto